Amici e amici, rieccoci qui per un nuovo video sul canale di Vincenzo Fanelli e oggi andremo a parlare di comunicazione non verbale. Come promesso mesi fa mi avevate fatto una serie di domande, oggi appunto vado a rispondere a queste domande e oggi andiamo a rispondere a una domanda di Bobo, anzi Bobo perché c'è l'accento sul primo Bo, e una domanda che mi ha sempre incuriosito è, è possibile mandare messaggi subliminali ad una persona con la comunicazione non verbale? Assolutamente sì, la comunicazione non verbale non è soltanto uno strumento di lettura dell'altro, cioè io leggo sull'altro quello che fa attraverso la gestualità, quindi il fatto che faccia, non so, passi in avanti o indietro, lo spostamento del busto in avanti o lo spostamento del busto indietro, il fatto che si gratti piuttosto che, non so, che fa sorridere magari se tu sei un po' a digiuno di questi argomenti, pensare che il fatto che una persona si gratti un sopracciglio piuttosto che si tocchi il naso possa avere un significato che non sia avere semplicemente prurito, può suonare alquanto strano, ma in realtà nella comunicazione non verbale i segnali sono raramente casuali, ecco, se una persona ha una dermatite per cui si gratta, ok, se una persona in qualche modo è stato toccato da qualcosa che li crea prurito, ok, ma se non c'è nulla di tutto questo e una persona tende a grattarsi in un punto piuttosto che in un altro, questo è dovuto a vasodilatazione che è dovuto da scarichi tensionali, quindi da tensione e quindi una persona è costretta a grattarsi in un punto o nell'altro e questo ha dei significati che poi andremo un po' a sviscerare nell'arco di questa rubrica, magari non proprio oggi perché è appunto la domanda di Bobo è proprio se è possibile mandare messaggi sublimi dagli altri ed è in realtà la risposta è affermativa perché, voglio fare un paio di esempi, sono due segnali molto potenti, uno di gradimento e uno di rifiuto, perché poi il nostro inconscio, grazie a Dio, parla in maniera molto semplice, parla tra virgolette, nel senso che o gradisce o rifiuta, quindi si tratta di un codice del sì e un codice del no. Il massimo segnale di gradimento è il cosiddetto linguino, cioè inumidirsi le labbra, inumidirsi le labbra che ovviamente i più scettici dicono ma io avevo le labbra secche, è un caso, ci vuole il burro cacao e basta, in realtà escludendo tutte quelle situazioni in cui una persona abbia veramente le labbra screpolate, il linguino è uno dei massimi segnali di gradimento, quindi quando il mio interlocutore fa questo tipo di segnale questo significa che effettivamente quello che ho detto, l'argomento o addirittura alla persona, cioè io, piaccio a chi ho di fronte, cioè se io parlo per esempio di, per sbaglio, parlo di montagna, dico l'altro giorno sono andato in montagna e la persona che ho di fronte si inumidisce le labbra, allora il gradimento al 90% è su montagna, quindi io so che se vado ad amplificare quell'argomento so che questo crea una fortissima empatia, oppure può essere interpretato come un codice del sì, e cioè se a una persona chiedo domani passi a prendermi questo istantaneamente, cioè in tempo reale quando io pronuncio questa richiesta l'altra persona si inumidisce le labbra, mi ha già detto di sì prima che me lo dica con le parole, quindi come vedi in base al tipo di contesto ci sono significati diversi, addirittura se una persona fa sempre questo tipo di segnale, a prescindere all'argomento, oppure appena mi vede fa questo segnale senza che io e lei abbiamo assolutamente parlato, questo vuol dire che il gradimento è direttamente sulla mia persona, quindi è a prescindere degli argomenti. Allo stesso tempo questo segnale non è soltanto di lettura, ma è stato ormai testato che un forte segnale interattivo, perché se io comincio a inumidirmi le labbra con una persona, ovviamente inumidirsi le labbra cosa significa? Non significa fare con la lingua cose strane, tipo hotline, tanto per intenderci, ma è una breve esposizione della lingua fatta anche molto velocemente in questo modo, è non una cosa esageratissima, se io la faccio ogni tanto durante la conversazione io sto inviando un messaggio molto forte che l'inconscio dell'altro interpreta come un forte segnale di empatia, l'altro regista questo segnale, a un certo punto viene stimolato a entrare in empatia nei miei confronti e a un certo punto anche lui tenderà a fare quel tipo di segnale, ma cosa più interessante mi aiuta a generare empatia. È anche vero che ci sono segnali di rifiuto e di tensione, uno di questi per esempio è... Quindi se io faccio questo tipo di segnale spesso e volentieri, vuoi perché ho la gola infiammata, vuoi che ho la tosse, eccetera eccetera, che cosa accade? Accade che io vado a influire negativamente sull'altro. Infatti questo segnale è come voler buttare fuori qualcosa, ed è un forte scarico tensionale. A livello di lettura quando qualcuno lo fa vuol dire che o l'argomento che ho tirato fuori genera tensione tipo beh come sta tua moglie e quello comincia a strozzarsi, mi fa capire che in realtà quell'argomento è meglio non toccarlo. Cosa interessante è che a livello interattivo va a caricare di tensione l'altro, cioè se io lo faccio spesso per x motivi come ho detto prima, quindi senza una motivazione razionale voluta, vado a caricare di tensione la persona e poi basterà una giustificazione razionale, logica, qualsiasi per innescare un litigio. Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo costituiti da due parti, una parte razionale e una parte inconscia, la parte razionale è quella che crede di capire tutto, ma in realtà è una piccola parte, poi c'è l'inconscio che è quello che in realtà si occupa della comunicazione verbale, tant'è che la comunicazione verbale è il suo linguaggio, quindi noi a volte con la parte logica diciamo delle cose, beh sì, questa cosa è molto molto interessante e poi ci strozziamo mentre lo diciamo, in realtà il nostro inconscio sta dicendo l'opposto, che questa cosa in realtà non ci piace, che questa cosa ci dà tensione e quindi questa cosa è importante perché spesso quando ci si approccia a questo argomento lo si approccia in maniera razionale, la parte razionale qui conta poco, le parole è vero che hanno un forte peso nella comunicazione, ma in realtà a me interessa quello che dice l'inconscio dell'altro e se io capisco questi segnali addirittura li posso usare in maniera interattiva o per generare empatia o addirittura per allontanare una persona, se a me una persona sta sulle palle io comincio a fare spesso questo tipo di segnale, quello negativo di cui parlavo prima, questo schiarirsi la voce e dopo un po' la persona caricando sempre più tensione avrà due scelte, o in maniera poco simpatica comincerà a litigare, a scaricare tensione come, oppure se ne andrà, in genere avviene che la persona preferisce più allontanarsi con una qualsiasi giustificazione razionale, cioè non si rende conto che il motivo è perché tu ti stai schiarendo la voce, ma trova una giustificazione, per esempio si sente a disagio piuttosto che deve andare a fare qualcosa, è tardi, ma a noi ci frega poco perché se l'obiettivo non è creare empatia, allontanarla, faremo questo tipo di segnali. Bene, spero che questo video sia piaciuto, se ti è piaciuto metti mi piace, mi raccomando, spero di aver risposto a Bobo e non solo a Bobo ma anche aver dato delle indicazioni utili anche agli altri da utilizzare per migliorare la propria vita, quindi mi raccomando linguine le persone che ci piacciono e schiarissi la voce e tossire da quelli che li vogliamo allontanare, quindi in maniera subliminale li allontaniamo da noi. Bene, se questo video ti è piaciuto mi raccomando metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e mi raccomando la condivisione è importante perché dobbiamo far crescere questo canale e più fate crescere il canale, più video io farò e sarò sempre più attivo. Bene, io ti mando un abbraccio grande, mi raccomando il like e la condivisione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!